Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nostro secondo video di unboxing della nostra Degusta Box, in questo caso la Degusta Box di agosto 2017. Partiamo subito con il prodotto del mese, che è questo qua, ed è il 5 cereali con riso rosso della barilla, che ha un costo di 2,99€ ed è composto principalmente da riso, parro, orzo, grano e avena, ricordiamo quindi il prezzo, 2,99€. Poi c'è questo pestato, madama oliva, che è disponibile in tre referenze, a noi è capitato il piccante, e praticamente questo ricalca una ricerca dell'antica Roma, in cui si pestavano le olive e si aggiungevano delle spezie. Ha un costo di 1,60€, c'è una sola referenza nella Degusta Box. Poi c'è una sezione TUC, la sezione TUC è composta dal TUC Original, dal TUC Cracker, eccolo qua, e dal TUC Crisp, in questo caso alla paprika. I prezzi sono, per quanto riguarda il TUC Cracker, 1,87€, 1,04€ per il TUC Original, e per il TUC Crisp, che questo lo trovate nel reparto delle patatine, costa 1,64€. Proseguiamo, e ci sono questi biscotti di farro bio, non so se si legge la marca, che è Poggio del Farro, che costano 2,89€, e diciamo sono senza glassi reocinati e senza conservanti. Proseguendo una cosa che va molto di moda adesso, tolgo il dito, è la bevanda di soia al cacao dell'Alpro. Sono tre brick da 250 ml, c'è il latte di soia e poi ci sono i semi di cacao. Proseguendo c'è l'olio della Monini, questo non si capisce ma è una bottiglia di plastica, e ha un tappo che è un tappo dosatore, e si chiama appunto Monini Classico Premi e Spremi. Quindi l'olio esce nella quantità giusta e soltanto quando si preme la scatola, e costa diciamo 3,89€. Poi ci sono due bevande a base di caffè, della linea Mocha Instinct, che sono questa qua in lattina, che si chiama proprio Mocha Instinct, hanno entrambe, questa è quella che vi farò vedere successivamente, la quantità di un espresso. Questa nello specifico è con le bollicine, quindi è frizzante, e da bere anche fredda, e poi c'è quella in vetro, che adesso è nella sua protezione appunto perché è di vetro, e da 150 ml, non frizzante, e ha solo 3 ingredienti, che sono acqua, caffè, ripeto circa un espresso, e zucchero di canna. Proseguendo, ci sono le classiche focaccelle, infatti, diciamo, se c'è da trovare un difetto di queste gustabox, sono dei prodotti che non sono troppo nuovi, ed sono le focaccelle con olio extravergine di oliva della Molino Bianco, che quasi sicuramente conoscerete tutti quanti, e hanno un prezzo di 2€, non so se ho detto i prezzi del Mocha Instinct, ma non mi pare, erano comunque 1,39 l'una, e l'altra invece 1,09. Infine, ci sono le galatine, fantastiche galatine, che hanno solo 3 ingredienti, che sono latte, 80%, poi c'è il miele, quindi l'unico dolcificante è il miele, e c'è il gusto di fragola, e queste costano 1,97 euro. Infine, ci sono due referenze di questo prodotto, di questa linea, che si chiama BB Wow, che sono degli snack, che vengono 1,29 euro a pacchetto, di frutta secca, e, diciamo, con aggiunta proprio di frutta, gocce di frutta, parla qua, e sono delle mandorle sgusciate, e l'altro sono delle arachidi tostate, eccoli qua. E, infine, l'ho lasciato per ultimo, non a caso, sorpresa, ecco quale Big Bubble, ragazzi, da più di 40 anni, non scompaiono mai, costano al costo di 1,99 euro, e, con questo, diciamo, si chiude la box di agosto, che vale la pena di acquistare solo, secondo me, per le galatine e le Big Bubble, guardate. Io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima dei Gustab Box di settembre. Ciao a tutti!